buongiorno a tutti ciao a tutti aspetto che arriviate benvenuti vedo che non c'è ancora nessuno ecco che arriva qualcuno ciao a tutti per favore mandatemi un messaggino che mi sentite e mi vedete bene che mi ricevete bene grazie per farlo se mi mandate un messaggino grazie ciao etel bene siamo ancora oggi qua su bridges of light per un altro nostro appuntamento pomeridiano con i raggi di lavorare in modo semplice con gli angeli questo è il terzo appuntamento e oggi affrontiamo un i raggi più alti di lavorare in modo semplice con gli angeli e che sono anche gli ultimi e sono il raggio verde e il raggio viola facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto fino ad adesso e vi specifico ancora che la suddivisione del lavoro che ho fatto in questi video in queste dirette con voi è proprio per aiutarci in questo momento di emergenza planetaria momento che pensavamo durasse poco e invece sta si sta rivelando molto più diciamo difficoltoso da superare di forse di quello che ci auguravamo quindi ho deciso di lavorare con voi e con i raggi angelici proprio riferito a questo momento ed è per questo che oggi anche con voi affronterò l'argomento perché il raggio i raggi verde viola mi aiutano in questo di qual è il nostro compito di operatori di luce io intendo con dei operatori di luce non solamente e coloro come me per esempio che hanno fatto proprio del loro risveglio spirituale un vero e proprio percorso lavorativo ma tutti coloro che hanno riacceso dentro la loro coscienza la scintilla della spiritualità quindi quelli che sono in cammino quelli che vogliono conoscersi quelli che vogliono arrivare a integrare parti di sé quindi siamo un po' tutti operatori di luce qual è il ruolo dell'operatore di luce in un momento così delicato lo affrontiamo attraverso i raggi verde viola particolarmente quando parleremo del raggio viola io vi parlerò della fiamma violetta di come la fiamma violetta è scesa in questo libro e di che cosa porta specificatamente attraverso il raggio viola di lavorare in modo semplice con gli angeli ma facciamo una piccola diciamo così un piccolo riassunto di quello che del lavoro che abbiamo svolto finora insieme tra parentesi fatemi sapere se in questo periodo avete lavorato in questa settimana avete lavorato con i raggi se vi sono stati di aiuto quali sono le difficoltà che avete incontrato magari mi mandate dei messaggi anche in privato e io vi rispondo nella prossima diretta ci penso e ne parliamo insieme abbiamo cominciato con mettere le fondamenta che è quello che ci serve mettere i confini che non siano dei confini che ci proteggono dall'esterno per difenderci dalle minacce ma sono dei confini che ci permettono di stare nella nostra centratura quindi abbiamo lavorato con il raggio bianco il raggio blu azzurro e il raggio rosa per poi la volta scorsa capire che anche se siamo isolati anche se è un periodo di instabilità economica anche se ci sono dei nuovi cambiamenti che dovremmo affrontare comunque dentro di noi c'è un deposito di abbondanza e che proprio ci appartiene ci viene dato di diritto dalla fonte creatrice e che quindi non dobbiamo temere in quel senso io adesso sono passata dal dalla scarsità dai pensieri di scarsità non io sono passata vedo quello che c'è fuori dai pensieri di scarsità adesso si parla di nuovo di complottismo quindi le forze oscure eccetera i governi che ci vogliono sfruttare ok quindi vediamo di affrontare questa altra nostra parte di noi che vede in questa realtà tutto questo con il raggio verde e il raggio viola con il raggio verde vi darò un compitino a casa di cui magari parleremo insieme la volta successiva con il raggio viola invece proprio tenterò in diretta un'attivazione spirituale vera e propria sia che voi già stiate lavorando con la fiamma viola di san germen quindi sia che già abbiate ricevuto quell'attivazione sia che non l'abbiate mai ricevuta la diciamo così la integriamo dentro di noi richiamandola attraverso il raggio viola la fiamma viola è la fiamma del settimo raggio appunto il maestro che è reggente e l'amato san germen che personalmente mi è sempre stato vicino in molti momenti della mia vita e poi vi racconterò anche come io sono ho ricevuto questa attivazione cominciamo dal raggio verde il raggio verde è importantissimo perché è quello che vi mette in connessione con le frequenze angeliche quindi sia con le frequenze angeliche che abbiamo sperito che stiamo sperimentando insieme sono dentro di noi sia con quelle frequenze angeliche che comunque possono essere per esempio gli angeli della terra in questo caso le frequenze questa connessione con le frequenze angeliche assume questo colore verde pallido verde smeraldo e poi che si arricchisce di tutte le sfumature del verde che si dispongono intorno a noi formando una griglia magnetica questa griglia magnetica è importantissima e collega e proprio costellata da vivide fiammelle dorate quindi abbiamo il nostro cielo stellare che è un cielo verde un cielo che ci collega alla terra un cielo che ci fa scoprire dentro di noi che gli angeli ci parlano all'orecchio ci parlano all'orecchio non come la nostra intuizione anche come la nostra intuizione ma ci parlano all'orecchio proprio in maniera diciamo così imperiosa sicura precisa non ci possiamo sbagliare è un messaggio che prima non c'era e dopo c'è e che cambia il nostro stato di coscienza il lavoro di tutti noi qual è seguire quelle voci perché seguire o seguire la nostra intuizione cioè avere fiducia in quella parte di noi invisibile che però è la parte che ci guida è la parte che tira le fila della nostra vita è quella che decide che ci incarneremo e quella che decide quando noi ce ne andremo e ritorneremo nella nostra casa ma vediamo cosa dicono i portatori di presenza proprio del raggio verde allora sul libretto io non ho l'ebook qua sul libretto e sono a pagina 38 sull'ebook cercate il capitolo che ha come titolo il raggio verde a questo punto gli angeli cominceranno a farsi notare da voi il che significa che cominceranno a comunicare con voi agli angeli sono stati attribuiti tanti modi di manifestarsi piumette bianche che sembrano cadute dal cielo numeri doppi sull'orologio monetine trovate per strada improvviso tintinio di campanelli bene queste possono essere cose che voi interpretate come segnali angelici ma noi vi diciamo che più di tutto gli angeli comunicano con voi attraverso la chiara udienza questo significa che vi parlano direttamente non hanno bisogno di mandarvi dei messaggi che poi voi dovete interpretare sono in grado di parlare al vostro orecchio e questo perché fanno parte di voi ricordate che abbiamo detto che nascete con il dono delle frequenze angeliche dentro di voi e quando cominceranno a parlarvi noi vi preghiamo di cominciare ad ascoltarli in questo modo le frequenze angeliche diventano strumenti importanti per portare benessere direzione nelle vostre vite lasciateli parlare potrebbero anche essere dei suoni potrebbero parlarvi all'orecchio non solo con discorsi diretti ma attraverso il suono e se un suono che udite allora pronunciatelo pronunciatelo anche in modo sommesso ma chiaro alternandolo al vostro respiro è così che l'angelo si fa riconoscere non importa se non capite il significato di quel suono perché quel suono vibra su frequenze che sono al di là della lingua che parlate è frequenza che parla direttamente alla vostra frequenza non c'è sempre bisogno di capire ogni cosa non c'è sempre bisogno di capire tutto ci sono cose che vanno accettate con fede la fede è lo strumento che vi permette di fare vostre cose che la ragione non riesce a comprendere vivere in una frequenza più elevata vivere nella nuova frequenza che il pianeta sta cercando di raggiungere significa avvalersi molto di più dello strumento fede forse con una differenza rispetto a come l'avevate inteso finora la differenza è ciò che accettate e che non sembra avere una spiegazione logica risuona nel vostro cuore non lascia adito a dubbi e vi nutre soprattutto vi avvolge a questo punto attraverso la vostra fede un raggio di luce verde pallido e verde smeraldo vi avvolge e diventa un bozzolo intorno a voi avvolge tutto il vostro corpo e va oltre diventando un guscio capace di espandersi vivide fiammelle di mille sfumature di verde e oro creano una rete creano una griglia intorno a voi una griglia magnetica capace di attrarre e respingere bene queste vivide fiammelle si posizionano seguendo uno schema ben preciso un disegno di geometria sacra ognuno di voi al suo ecco a questo punto ci fermiamo perché questo è il compitino che io vi do se voi lo volete fare vi andate a rileggere questo questa parte del libro lo fate come se fosse una piccola meditazione quindi vi mettete magari della musica rilassante vi o comunque una musica che vi faciliti l'entrare in uno stato alterato di coscienza vi mettete vi accendete una candela dell'incenso dell'olio essenziale insomma vi create il vostro spazio sacro e poi lasciate che la vostra mano scorra veloce sul foglio scorra fluido sul foglio non c'è bisogno di essere dei pittori per fare questo e fate la rappresentazione di voi come disegno come foste un disegno di geometria sacra in maniera tale che voi quando sentite il bisogno di entrare in connessione con le frequenze angeliche lo facciate anche richiamati da questo disegno molti la domanda che mi fanno di più è come faccio io a canalizzare non come faccio io ma se voi voleste essere al mio posto come faccio a canalizzare io credo che canalizzare sia un po' un talento cioè un dono insomma e bisogna avere per canalizzare come canalizzo io bisogna avere purtroppo il sistema immunitario ridotto al minimo cioè il sistema immunitario fa entrare tutto sono poi le forze che che ci aiutano i maestri che ci aiutano le nostre guide che ci creano intorno una una griglia una rete in maniera tale che passi solo l'esperienza che l'anima vuole che passi però questo è un quindi è un diciamo così un percorso personale proprio che arriva dalla nascita però attraverso questo piccolo stratagemma insomma di avere geometria sacra possiamo noi collegarci a questa griglia magnetica che racchiude la nostra aura e che ci mette proprio in connessione con le voci degli angeli quindi attraverso il raggio verde che potremmo definire il raggio della fede perché ovviamente dobbiamo avere fede per per fare tutto questo la fede è una è una diciamo così è un sentimento è una caratteristica che viene spesso richiesta dai portatori di presenza e non solo ma una fede vera una fede vera che si manifesta poi all'esterno con una fiducia in noi stessi io credo che fede nella parte spirituale fiducia in noi stessi sono proprio il diciamo così fanno capire che noi stiamo camminando come unità di parte visibile e in parte e parte invisibile per quanto riguarda l'abbinamento tra raggio gli oli essenziali qui potete aiutarvi con un olio essenziale ad esempio quello di cipresso il cipresso è un albero bellissimo è un albero anche che in cuore della madre terra mette in connessione proprio cielo e terra quindi più che mai qua ci serve lo fate lo lo mettete nel diffusore oppure semplicemente lo inalate non mettetelo addosso al corpo perché ricordatevi che gli oli essenziali sono da trattare con i guanti sono quella parte della pianta che sta proprio tra spirito e materia sono un po gli angeli diciamo così della natura gli oli essenziali con la loro parte materica e però con la loro parte di vibrazione quindi vi aiutate con questo però adesso io voglio entrare nel vivo della trasmissione di oggi e cioè cosa devo fare io come operatore di luce in questo momento una sola cosa prima di tutto rimanere in silenzio quando dalle nostre bocche uscirebbe solo rumore e soprattutto portare pace dentro di noi tra la scienza e la spiritualità guardate in questo momento nel bene e nel male tutti quanti sul pianeta si stanno adoperando e stanno cercando di fare del loro meglio noi abbiamo diciamo così un dovere ancora maggiore non perché siamo superiori agli altri assolutamente ma perché forse abbiamo fatto un pezzettino di strada in più e quel pezzettino di strada in più ci permette di guardare indietro e di parlare agli altri attraverso la nostra esperienza che deve essere un'esperienza di pace per esempio un operatore di luce non si mette a luna di notte a mandare messaggi via whatsapp che diciamo così diffondono notizie di paura chi si sveglia la mattina e prende il suo cellulare e per prima cosa vede quel messaggio che mette paura non inizierà bene la giornata quindi come operatori di luce abbiamo veramente un compito e il dovere di diventare delle onde di pace questo lo possiamo fare solo se scienze e spiritualità collaborano insieme perché è vero noi siamo arricchiti da tutta la nostra parte sottile siamo fortunati abbiamo delle guide che ci dicono come stanno le cose abbiamo la connessione angelica abbiamo la connessione con la natura siamo fortunati però abbiamo bisogno anche della nostra parte razionale e scientifica per vivere radicati in questa terra quindi quello che possiamo fare noi è smetterla di gridare al complotto e cominciare a diventare delle onde di pace questo lo facciamo attraverso la nostra chiaroveggenza attraverso il nostro sesto chakra che deve essere pulito deve essere limpido deve essere potente anche perché deve guardare le cose nella sua verità ecco perché adesso faremo l'attivazione con la fiamma viola che è la fiamma che ci permette, il raggio che ci permette proprio di trasmutare e di trasfigurare quelle energie che non ci servono e di comprendere che noi siamo infinita chiaroveggenza ma soprattutto che noi siamo infinita espansione oltre i confini del sistema solare legato al raggio viola che è portatore della fiamma viola di Saint Germain c'è un mantra che non è nel libro che però dopo la diretta io pubblicherò sulla mia pagina facebook è un'immagine, ho fatto un'immagine voi ve la scaricate così ce l'avete lo potete leggere, imparare a memoria sono poche righe e con quello vi potete aiutare prima di fare questa connessione diciamo così con la fiamma viola tutti quanti insieme se fossimo in un incontro fisico insieme io a questo punto inviterei tutti a prendersi per mano e a chiedere appunto al raggio viola di essere portatore attraverso me della fiamma viola questa cosa qui non la possiamo fare però possiamo creare un cerchio virtuale prenderci tutti per mano chiudere gli occhi e appunto quando io dirò di stare in silenzio visualizzare proprio questo raggio viola che entra dentro di noi lo potete sentire come un fuoco lo potete sentire come dei brividi dipende da come voi rispondete alle energie sottili comunque per l'esperienza che ho avuto io la fiamma viola è molto potente sa arrivare bene non c'è neanche bisogno che voi vi mettiate in chissà quale predisposizione d'animo è il raggio che in questo momento è il settimo raggio il raggio viola è il raggio che in questo momento lavora più alacremente sul pianeta perché porta trasmutazione e trasfigurazione difatti io mi piace pensare a questo periodo non come a un periodo di cambiamento ma a un periodo di evoluzione pensate a questo virus che ha fatto quello che i ricercatori scientifici chiamano spillover cioè è balzato da una specie all'altra ahimè direste voi ahimè aggiungo io però l'ha fatto è un insieme di proteine racchiuse in una capsulina di grasso che dai pipistrelli attraverso un mammifero è entrato nell'uomo non è una cosa diciamo così che sta portando è una cosa che forse non avrebbe dovuto succedere se avessimo rispettato di più la natura la biodiversità eccetera fatto sta che è successa un operatore di luce cosa fa? prende questo momento e ne fa un momento di evoluzione facciamo anche noi questo spillover dentro di noi dentro di noi e creiamo un qualche cosa di nuovo in questa nuova visione di noi stessi scienza e spiritualità si danno la mano vanno d'accordo cooperano si aiutano l'un l'altro perché fino ad adesso la scienza si è sempre occupata delle cose tecniche e ha messo diciamo così e la religione si è occupata delle cose spirituali ognuno aveva il suo compartimento queste cose è bene che siano allineate se vogliamo veramente vedere un mondo dove i fiumi scorrono puliti e i bambini possono giocare nelle strade senza pericolo vi racconto la mia storia del mio incontro con la fiamma viola così già voi vi predisponete e poi io leggerò un piccolo il passo del libro che riguarda il raggio viola e poi vi darò le istruzioni per riceverla a novembre del 2014 era un venerdì io sono venuta per la prima volta in contatto senza che loro si siano presentate come frequenze come portatori di presenza con i portatori di presenza con le guide che mi hanno poi dettato questo libro ho avuto questa esperienza leggendo il passo di un libro di un autore americano che si chiama Paul Selig e in quel momento ho avuto proprio un'esperienza di connessione col tutto e sono stata invitata attraverso questa mia esperienza come se fosse una meditazione mettiamola così a depositare questa mia esperienza in Akasha la cosa è finita lì io ho fatto tante meditazioni ho fatto tanti viaggi sciamanici prima di arrivare a quello quello era uno dei tanti diciamo invece era la porta la porta che mi apriva la possibilità di diventare canale dei portatori di presenza ma perché vi racconto questo perché la domenica mattina quindi due giorni dopo questa esperienza qui mi sono svegliata stavo per alzarmi dal letto e il mio letto era il mio corpo era completamente immobile non riuscivo a muovermi proprio mi sentivo pesantissima che mi sono anche un po' spaventata infatti stavo per chiamare il mio compagno cioè proprio non riuscivo a muovermi e in quel momento ho visto non posso dirvi che l'ho visto anche con gli occhi fisici comunque ho percepito proprio questa presenza che si è presentata come Saint Germain io il maestro Saint Germain avevo già avuto un modo di incontrarlo molto nei miei viaggi sciamanici e che mi disse che mi avrebbe appunto dato l'attivazione alla fiamma violetta e mi diede il mantra attraverso il quale lavorare con questa fiamma ci ho messo un'ora dopo ad alzarmi dal letto e due giorni per riprendermi e vi dico la verità ho sottovalutato anche un po' questa cosa non sapevo neanche che esistesse questa fiamma violetta sono poi andata a interessarmi su internet ho visto comunque che era un'attivazione spirituale che appunto Saint Germain apparteneva a Saint Germain però non è entrata da subito nella mia vita ho capito che con questa fiamma potevo cominciare a trasmutare e trasfigurare le situazioni negative ecco perché è così importante oggi parlare di questa attivazione spirituale fino a quando non ho canalizzato lavorare in modo semplice con gli angeli è stato lì quando si è parlato del raggio viola quando i maestri hanno parlato del raggio viola che ho sentito la frequenza della fiamma violetta scendere nel raggio viola quindi quando voi leggete e lavorate con lavorare in modo semplice con gli angeli non solamente con il libro ma quando comincerete ad avere dimestichezza con questi raggi anche nella vostra soprattutto nella vostra quotidianità automaticamente diventerete anche voi portatori di questa fiamma violetta questa fiamma violetta cosa fa se avessi fatto questo seminario un po' di tempo addietro direi che fa pulizia del karma adesso mi piace di più dire che trasfigura tutte quelle parti di noi che sono attaccate a quei condizionamenti che in questo momento non ci servono più i condizionamenti li scegliamo possiamo decidere di continuarli di continuare a portarli con noi oppure li possiamo lasciare andare quando vogliamo diciamo così percorrere una nuova strada ecco la fiamma viola fa proprio questo lo fa trasfigurando e trasmutando sono proprio due verbi differenti sono due azioni differenti che si riferiscono una alla parte fisica e l'altra alla parte energetica quindi attraverso il potere della fiamma viola di trasfigurare di trasmutare noi agiamo su di noi proprio al 100% cioè sul nostro corpo quindi sulle nostre cellule fisiche e sul nostro spirito quindi sulle nostre cellule spirituali perché voi saprete benissimo che una cellula è doppia cioè ha la parte fisica e ha la sua parte spirituale quindi dobbiamo agire in tutti e due i modi ma la fiamma violetta contenuta in lavorare in modo semplice con gli angeli fa di più nel trasfigurare e nel proteggerci mentre facciamo questo perché spesso come operatori di luce magari all'inizio del nostro percorso eravamo in balia delle energie anche energie buone energie di luce però erano difficili da cavalcare nel mio lavoro precedente quando lavoravo col tamburo sciamanico si diceva che una sciamana deve cavalcare il tamburo e non farsi portare dal suono del tamburo ecco la stessa cosa la fiamma viola con la sua capacità di protezione fa sì che noi questo lavoro lo portiamo dentro di noi in maniera chiara limpida cristallina potente effettiva per poi per poi aprirci all'infinita espansione di noi stessi e questa infinita di espansione infinita espansione di noi stessi inizia proprio qui qui nel sesto chakra qui dove c'è il terzo occhio qui dove c'è la nostra chiaroveggenza oppure come la chiamano i portatori di presenza la nostra chiara visione allora adesso tentiamo questo esperimento insieme io vi darò questa attivazione spirituale se ci sono delle domande che qualcosa non è chiaro fatemele adesso così almeno vediamo io vi rispondo e cosa bisogna fare per ricevere un'attivazione spirituale certamente mettersi comodi fare due o tre bei respiri profondi almeno tre guardate sono sicura che è solo col terzo respiro profondo che proprio sentite le energie che fluiscono in maniera nella giusta maniera quindi in una maniera di apertura quindi fate questi tre bei respiri profondi vi consiglio di chiudere gli occhi assolutamente e di permettere che sia la vostra pineale a guidarvi insomma in tutto questo lavoro la pineale lavora quando c'è lo sguardo chiuso quando siamo con gli occhi chiusi e poi a rimanere in silenzio anche se magari io riprenderò a parlare e voi sentirete il bisogno di stare ancora in intimità con voi per favore fatelo osservatevi un'altra cosa che un operatore di luce deve imparare a fare è quella di ascoltare sempre anche se c'è qualcuno che vi dice che cosa fare ascoltate voi stessi e poi dopo magari ci confrontiamo insieme ma adesso entriamo nel vivo della fiamma viola in realtà sul libro ci sono veramente tre righe legate al raggio viola ma queste tre righe sono più che sufficienti io dopo vi reciterò la formula per l'attivazione della fiamma viola e poi dopo voi ve la andate a scaricare così la potete richiamare a voi tutte le volte che volete io sono a pagina 41 del libro cartaceo voi dovete andare a cercare nell'ebook il capitolo che si intitola il raggio di luce violetta ecco importante che qui i portatori di presenza parlano da subito di raggio di luce violetta un raggio di luce violetta si accende improvvisamente sorge splendente dal centro della vostra fronte la chiaroveggenza così adesso dite con noi queste parole io sono chiaro udienza riesco ad ascoltare le voci degli angeli punto ditelo con fede io sono chiaroveggenza in grado di vedere oltre i confini del sistema solare punto ecco adesso ci mettiamo in una disposizione d'animo giusta le parole attraverso le quali noi attiviamo la fiamma violetta sempre riferito a lavorare in modo semplice con gli angeli dentro di noi sono queste adesso io vi chiederò di stare in silenzio di stare concentrati appunto di mettervi in una posizione di ricevimento di apertura energetica io vi recito il mantra e poi rimango anch'io in silenzio per permettere che la fiamma viola ci raggiunga tutti idealmente sarebbe bello che ci prendessimo tutti per mano facciamo questo facciamo questo mettiamo questo intento dentro di noi io sono io sono e invoco la fiamma violetta con il suo potere di trasfigurazione io sono e invoco la fiamma violetta con il suo potere di trasmutazione io sono e invoco la fiamma violetta con il suo potere di protezione io sono infinita chiaroveggenza io sono infinita espansione oltre i confini del sistema solare oltre i confini oltre i confini oltre i confini eccoci qua l'avete sentita? è arrivata a voi? se magari avete fatto fatica perché non eravate nelle condizioni migliori comunque sappiate che l'attivazione è partita e voi potete anche recitando queste parole o leggendovi il capitolo dedicato al raggio di luce violetta del libro riceverla in un momento successivo quello che ho visto io era questo raggio di luce violetta che comunque avvolgeva un po' tutto questo nostro bellissimo amato pianeta quello che sperimenterete sarà un lavoro che durerà un bel po' oltre la connessione di oggi generalmente è un lavoro spirituale che sia un lavoro spirituale fondato ha almeno bisogno di 40 giorni per essere portato al 100% nella nostra vita tempo ne abbiamo diciamo che siamo proprio nel periodo giusto per lavorare con questo genere di energie e non è un caso se tra un po' ci sarà la Pasqua e allora per il periodo pasquale vedrete che la fiamma viola vi avrà dato i suoi segni, i suoi frutti vi avrà dato dei frutti vi consiglio comunque in questo periodo magari di non vestirvi troppo di colori scuri come il nero vi consiglio di osservare anche una pulizia fisica che tra l'altro è importantissima io mai come in questo momento ricorro a quelle che chiamo i miei bagni di luce quando mi faccio la doccia proprio chiedo all'acqua all'acqua di luce quindi alla parte sottile dell'acqua di pulire via tutto quello che non serve dalla mia persona nei miei contatti che faccio la mattina nel mio esercizio spirituale mi è successo ultimamente una cosa che non mi era mai successa prima e cioè mi viene chiesto di pulirmi mi dicono guarda sei sporca pulisciti non perché io sia sporca è logico e dal punto di vista energetico ma perché in questo momento siamo veramente bombardati da mille cose al me queste mille cose sono legate alla frequenza della paura di tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso insieme quindi in questo periodo fate ancora più attenzione a questo lavorate su di voi affinché ci sia pulizia ci sia profumo ci sia chiarezza ci sia un'apertura energetica sì ma un'apertura energetica corretta un'apertura energetica che risuoni con la vostra verità l'olio essenziale da abbinare al raggio di luce violetta è l'ilang ilang è anche un olio essenziale che a me piace molto è la menta asiatica ha questa profumazione un po' speziata un po' forte se a voi non amate comunque questo genere di profumo siete liberi di scegliere il profumo che preferite io ho ricevuto ecco vi dico come ho fatto l'abbinamento tra i raggi tra i raggi e gli oli essenziali l'ho fatto con con proprio aiutata da un amico che è anche un floriterapeuta un omeopata e un fitopreparatore e quindi abbiamo abbinato le frequenze dei raggi alle frequenze degli oli essenziali canalizzando sì però anche con diciamo così una una conoscenza più scientifica più specifica di quelli che sono le proprietà e le caratteristiche degli oli essenziali allora vediamo che ora è abbiamo ancora 20 minuti siamo in sono in orario allora ecco ditemi per favore se avete ricevuto la fiamma viola se l'avete sentita se è accaduto qualche cosa nel vostro spazio energetico fatemi dare vostre datemi vostre notizie insomma e io voglio continuare proprio portando ancora diciamo così in evidenza quello che è il compito di un operatore di luce e per per avvalermi delle parole delle guide continuo la mia lettura che adesso ho perso il segno perché mi sono distratta continuando andando continuando a leggere il eccolo qua il capitolo che riguarda il raggio di luce violetta quindi io sono a pagina 42 del del cartaceo voi prendete il capitolo raggio di luce violetta se avete l'ebook e continuiamo la lettura perché a questo punto le guide introducono una frequenza importantissima una la frequenza dell'amore ed è proprio questa frequenza che ci serve per entrare in questa nuova visione di noi stessi ricordatevi che anche se siamo operatori di luce non siamo qui per salvare il mondo il mondo si salva da solo il mondo non ha bisogno di noi siamo noi casomai che abbiamo bisogno del mondo però la visione che noi vogliamo avere che vogliamo avere del mondo la visione che abbiamo del mondo è la visione che noi abbiamo di noi stessi quindi è importantissimo che in questo momento la frequenza dell'amore sia la frequenza che ci guida stamattina io bevo delle tisane che hanno anche attaccata la bustina hanno una frase stamattina la frase diceva non parlare solo di amore vivilo nella pratica quotidiana questo amore ecco direi che mai come in questo periodo questo è importante questo va fatto la frequenza dell'amore questo è un libro che parla in frequenza cosa significa questo significa che non è una meditazione guidata che ha lo scopo di favorire uno stato di rilassamento o la guarigione di un trauma questo libro attraverso le sue parole le frasi e le pratiche che suggerisce è in realtà la rappresentazione concreta e raffigurata di una determinata frequenza la nuova frequenza che il pianeta sta cercando di raggiungere è quella dell'amore lavorare in modo semplice con gli angeli vi aiuta camminare in quella direzione quella della nuova frequenza dell'amore che maestri come noi hanno già potuto sperimentare e raggiungere ed è per questo che siamo qua quando raggiungete la frequenza dell'amore voi diventate i vostri fratelli e le vostre sorelle questo non significa che vi annullate anzi significa che cominciate a risplendere della luce che siete tutto questo è molto più tecnico di quanto possiate pensare in questo momento sulla terra esiste ancora una netta divisione che purtroppo a volte diventa anche una frattura tra scienza e spiritualità la scienza si avvale di pratiche tecniche la spiritualità si avvale di pratiche religiose ebbene noi vi chiediamo di fare un atto di fede annullate questa divisione saldate questa frattura unite questi due importanti aspetti della vostra esistenza la scienza vi ha aiutati a raggiungere mete ambiziosi in tutti i campi compreso quello della medicina quante vite ha salvato ad esempio l'antibiotico e l'uso che poi voi ne fate che attribuisce un valore positivo o negativo ad una scoperta dal canto suo la religione tenta di mantenere sempre viva nei cuori degli uomini la connessione con la fonte creatrice è solo che entrambe vogliono diventare padrone assolute del proprio campo dando spiegazioni univoche su temi importanti come l'origine dell'universo ancora vi chiediamo di fare un atto di fede e di annullare questa divisione fatelo con queste parole io sono e attraverso un atto di fede annullo la divisione che esiste oggi sul pianeta tra scienza e spiritualità osservate un minuto di silenzio ecco questa divisione tra scienza e spiritualità è veramente una frattura che noi dobbiamo assolutamente sanare io anch'io cado in questa trappola perché qui faccio un appunto personale come il mio archetipo è quella della madre stellare della sciamana che è portata a dare sussistenza alla vita quindi la prima cosa per me è la salute e in questo momento sarei coinvolta sarei sì propensa a volte a cadere nella critica verso quello che è il sistema sanitario per come si stanno comportando quello che penso ad esempio è perché medicina alternative e medicina tradizionali non si mettono insieme per combattere questa emergenza e allora poi mi dico che è sbagliato tutto questo che ancora una volta sto proiettando all'esterno cose che riguardano il mio ego le mie paure il mio desiderio che quello in cui credo prevalga su tutto il resto e così ho deciso di lavorare ancora di più dentro di me in questo posso lavorare sulla mia salute per esempio posso lavorare sulla mia salute in maniera tale da non cercare di non ammalarmi in questo periodo non solo per non andare a pesare sul sistema sanitario io mi rivolgo ad un altro tipo di medicina ma il mio medico per esempio in questo momento abita a Genova e quindi io non riuscirei a raggiungerlo quindi scelgo di lavorare su di me sulla mia salute sulle mie credenze ancora maggiormente rispetto a quanto non ho fatto fino ad adesso io vorrei che questi appuntamenti perché oggi con Gaetano mi è stato confermato che sarò con voi anche la prossima settimana comunque il martedì e il giovedì sempre a quest'ora fino a quando non ci sarà questa emergenza quindi avremo bisogno diciamo così di ritrovarci tutti insieme vorrei proprio che questi incontri insieme se voi non avete altre diciamo così altre richieste altre esigenze altri bisogni rimanessero proprio su questo tipo di argomento e mi piacerebbe anche cominciare a interagire un po' con voi cioè a non stare io qui a parlare e voi lì ad ascoltare per questo la prossima volta ho pensato di fare un gioco insieme che non è poi tanto un gioco e cioè di andare a scoprire quello che è il proprio raggio di appartenenza perché tutte queste perché le frequenze angeliche che appartengono nello stesso modo a tutti quanti cioè tutti quanti abbiamo questi raggi dentro di noi poi però all'interno di noi assumono diverse combinazioni diverse sfumature e ce n'è sempre uno diciamo così più caro o che predomina dentro di noi ed è bello andare a scoprire qual è il nostro raggio di appartenenza il nostro raggio di appartenenza è anche il nostro archetipo il nostro archetipo angelico io per esempio ho il raggio rosa e lo possiamo benissimo scoprire insieme voi potete farmi delle domande e io cercherò di rispondervi seguendo quello che il mio intuito mi dice ma vi dico di più possiamo anche lavorare insieme con i raggi di lavorare in modo semplice con gli angeli perché oltre a scoprire quello che è il vostro raggio di appartenenza possiamo anche scoprire qual è il raggio che vi serve in quel momento allora mettiamo che noi abbiamo davanti a noi una tabella con le otto strisce anzi nove perché ci mettiamo anche le vivide fiammelle dorate con questi con questi raggi io nei miei incontri con le persone proprio faccio questo faccio fare questo lavoro faccio scegliere il raggio che li attira di più e poi insieme vediamo se quel raggio ti attira perché è il tuo raggio di appartenenza o se quel raggio ti attira perché è il raggio con il quale tu hai bisogno di lavorare andando un po' più avanti nella lettura del libro vedrete che i portatori di presenza dicono a un certo punto i raggi sono tutti insieme ma non sono tutti insieme come se fossero una mescolanza di colori quindi una tavolozza di colori dove sono mescolati così random sono tutti insieme perché sono simili ad un arcobaleno cioè ogni raggio è come dove finisce uno e inizia l'altro infatti loro lo spiegano molto bene con queste parole i confini di uno sono i confini dell'altro e ci invitano a vedere noi in questo modo cioè io sono qua con i miei confini ma mia figlia mio figlio il mio compagno mia sorella sono comunque il mio confine inizia nel suo confine e finisce nel confine dell'altro capite che cosa intendo è un concetto sul quale bisogna soffermarsi e riflettere perché non è così facile da mettere in pratica però lavorando con lavorare in modo semplice con gli angeli facilitati dal fatto che comunque un librettino piccolo sottile quindi possiamo riprendere in mano tutte le volte che vogliamo questo concetto noi lo facciamo proprio nostro adesso aspettate che guardo l'ora ancora tempo benissimo e lo facciamo proprio nostro quindi quindi tutti questi raggi sono dentro di noi ma noi li possiamo anche mescolare insieme ne parleremo di questo di come mescolare i vari raggi tra di loro vi faccio per esempio un esempio vi faccio un esempio per farvi capire meglio di cosa sto parlando il raggio verde e il raggio rosa quando sono uniti danno origine a quella che i portatori di presenza hanno chiamato la divina compassione la divina compassione serve soprattutto a quei terapeuti a quei canali spirituali come me ai medici agli infermieri che devono lavorare con gli altri aiutandoli su un percorso di guarigione senza farsi prendere dalla voglia e necessità di dover salvare la divina compassione ti permette di stare nell'aiuto senza che l'ego ti spinga guardate che l'ego spirituale è infinitamente peggio dell'ego caratteriale senza che il tuo ego spirituale ti spinga a voler oltrepassare i limiti quindi a non rispettare quella che è la volontà di chi è venuto da te a chiedere aiuto questo riguarda appunto gli operatori olistici ma riguarda anche i medici l'accanimento terapeutico riguarda gli infermieri insomma tutti questi che lavorano in questo mondo quindi queste persone per esempio si possono aiutare per rimanere nella loro centratura proprio attraverso una combinazione di raggio verde e raggio rosa vi ho parlato di sanare la frattura che c'è tra scienza e spiritualità quindi cosa fa un operatore di luce in questo momento prima di tutto si informa per esempio se c'è un video una lettura insomma di qualcuno che dice delle cose che vi interessano io di regola vado sempre a guardarmi anche la biografia la sua vita la sua storia come operatore di luce non mando mai in giro messaggi via whatsapp a tutta la mia rubrica che sono magari non sono firmati quei messaggi che iniziano urgente urgente ultima notizia quelli di cestino come operatore di luce non mando via messaggi alla sera che poi la mattina dopo verranno visualizzati sul telefono di nessun genere ma neanche se fossero messaggi positivi come operatore di luce mi informo anche dal punto di vista scientifico anche se noi magari abbiamo una visione più aperta spirituale più allargata delle cose però c'è tutta la nostra parte scientifica e razionale che comunque è giusto che venga impiegata in questo attraverso anche una capacità di analisi che sia una capacità di analisi centrata io per tecniche nuove ho pubblicato un libro che si intitola 10 giorni vegetariani e questo editore ha creato un sito che si chiama semprepresenti.it dove potete scaricarvi una guida che è gratuita che è stata fatta da un medico adesso sinceramente non mi ricordo il nome ma se andate sul sito vedete tutto che ha messo a disposizione le sue conoscenze di medico per spiegare appunto che cos'è il covid perché non è un'influenza come funziona come si trasmette il contagio che cosa possiamo fare per evitare il contagio eccetera eccetera è spiegato in maniera molto chiara e io vi invito a scaricarvelo così come vi invito a leggervi o ad ascoltare le parole di medici olistici e mi è piaciuta molto la spiegazione che ha dato Nadir Bhutto della cellula con carica positiva e negativa e del virus con carica positiva e negativa che si attraggono si respingono quindi è una posizione olistica c'è una posizione differente però è la posizione comunque di un uomo di scienza che sa quello che sta dicendo quindi informatevi andando a cercare delle delle radici insomma che ci siano delle radici che ci siano delle cose vere non delle cose inventate idem per le canalizzazioni guardate è dal 2003 che io faccio questo lavoro ho fatto tanti viaggi sciamanici ho fatto tante meditazioni ho fatto tanti tante canalizzazioni mai 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 nemmeno per una volta nemmeno in questo momento ho ricevuto dall'altra parte del velo un messaggio che potesse incutere separazione terrore e paura tra tutti quanti noi o scatenare uno stato di ansia quella per me è la prova che sono veramente delle fonti spirituali stasera alle 21 ci sarà Gaetano Vivo che intervista Roy Martina che è per esempio una di queste persone alle quali molti di noi guardano in maniera diciamo così come un esempio insomma da prendere in considerazione e quindi per esempio vi invito ad assistere a questa intervista alla quale io assisterò di sicuro così da aggiungere un altro puzzle un altro pezzo a questo puzzle che stiamo tutti quanti faticosamente cercando di vivere insomma un altro tassello guardo l'ora ok ci sono avete delle domande ci sono delle cose che volete chiedermi delle cose che volete dirmi mi piacerebbe se voi se voi mi dite qualcosa di come state vivendo questo se state leggendo lavorare in modo semplice con gli angeli se avete delle incontrate delle difficoltà o invece che cosa sta portando nella vostra vita per favore non siate timidi e datemi un vostro riscontro a me serve moltissimo avere i vostri riscontri perché almeno posso anche adattare il mio lavoro a questo sapete io come sciamana come madre stellare non amo molto diciamo così presentarmi in pubblico perché una sciamana tutto sommato cosa fa una sciamana sta una sciamana stellare almeno sta nella nella sua casa fa le sue cose e quando arriva qualcuno che ha bisogno di lei la sciamana presta il suo servizio ma questi sono tempi un po' stravolti devo anche io un po' ricordarmi che siamo nel 2020 quindi tempi moderni ed è per questo che ho accettato con molto piacere l'invito di Gaetano nel fare queste trasmissioni con voi e quindi i vostri riscontri e i vostri diciamo i vostri commenti mi servono proprio per diciamo così calibrare il mio lavoro su quello che è su quelle che sono le vostre esigenze le vostre necessità quando io lavoro con gli altri soprattutto per lavorare in modo semplice con gli angeli a parte che mi piace lavorare con piccoli gruppi ma si forma un'energia di gruppo non solo quando io faccio questo lavoro generalmente quando si formano questi lavori ecco io sento che qui oggi noi anche con le connessioni precedenti stiamo creando un gruppo quindi sarebbe bello che anche se non potete assistere alle 14 poi il gruppo andasse avanti e insieme portassimo portassimo questo lavoro l'obiettivo che ho io spero coincida con l'obiettivo che avete voi e l'obiettivo che ho io durante questa quarantena e nel lavoro con voi è quello di essere un'onda di pace l'onda di pace è capace di camminare posando speranza sul suolo del pianeta ecco io se volete seguire seguirmi se volete continuare con me io ho questo obiettivo allora dopo se volete andare sulla mia pagina facebook quando finisce la diretta io metterò un'immagine dove c'è il mantra della fiamma viola del raggio di luce violetta e vi aspetto allora stasera con Gaetano vivo cioè vi aspetto andiamo a sentire l'intervista che farà Gaetano a Roe Martina e se volete essere con me la prossima settimana cioè martedì prossimo alle 14 sappiate che allora facciamo un piccolo giochetto che è proprio quello di individuare il raggio di appartenenza o il raggio di cui avere bisogno in questo momento vi ricordo che gli oli essenziali da abbinare al raggio verde e al raggio viola sono l'ilang-ilang per il viola e il cipresso per il verde vi invito a fare l'esercizio di provare a fare il vostro disegno di geometria sacra cioè la vostra griglia cristallina verde-viola che vi racchiude e che vi permette di entrare in connessioni proprio con la vostra chiara udienza e vi ricordo l'attivazione della fiamma viola può lavorare su di voi anche dopo la connessione che abbiamo fatto prima e quindi è possibile come per tutte le attivazioni spirituali che abbiate una rispondenza fisica se è la trasfigurazione quella che ha bisogno di cui avete bisogno potreste sentirvi in uno stato energetico differente se è la trasmutazione quella di cui avete bisogno sentirvi in uno stato di espansione ecco magari appunto in questo periodo in questo momento oltre al fatto che siamo costretti a stare a casa ma particolarmente perché abbiamo lavorato con la fiamma viola cercate di stare nella pulizia quindi bagni di luce attraverso la doccia o nella vasca da bagno bicchieri d'acqua con intenzione pulizia in casa e pulizia nella persona vi abbraccio tutti quanti nella luce grazie di essere stati qui con me e sono sicura che va già tutto bene un abbraccio